Professore Giovanni Nardelli, direttore della clinica ginecologica e ostetrica, azienda ospedaliera Università di Padova. Diamo dei numeri positivi, quante sono le nascite nel 2015 e sono ad opera di italiani o di stranieri? La natalità si sta riducendo a livello nazionale, questo è un dato che viene riportato da tutta la letteratura scientifica ma anche da quella giornalistica. Anche noi abbiamo osservato una riduzione, la stima che la Regione Veneto ha eseguito è circa il 6,5% di riduzione della natalità. A Padova sono due strutture che intervengono sulla natalità, una universitaria e una ospedaliera, il totale di entrambi dovrebbe essere sui 3600 parti cerca. Si critica sempre lo straniero ma in realtà dà la possibilità sia di contribuzione che di lavoro? Ottima domanda, un terzo abbondante del nostro lavoro è supportato dalle persone straniere residenti in Italia oppure in transito in Italia. Questo nomadismo che c'è nella ricerca di una terra felice dove poterà crescere i propri figli fa sì che si possano fermare anche in Italia per partorire. E quindi è un dato rispetto al territorio che deve essere valutato nel senso di transitorio. La struttura universitaria, faccia conto, ha dato 1677 nati totali rispetto all'anno scorso che erano 1786. Questa è una differenza che trova riscontro a livello nazionale. Poi la differenza tra maschi e femmine e irrisoria non esiste fondamentalmente. Quello che è molto importante è invece che la patologia legata all'ostetricia viene eseguita prevalentemente nella clinica universitaria perché qui afferiscono le scuole, vuoi per le ostetriche, vuoi per gli specialisti e quindi giustamente devono imparare a gestire queste patologie.